MTB Gran Fondo, in collaborazione con TechSeries. Non fermarti mai. Amici sportivi e appassionati delle ruote grasse, un saluto da Carlo Rosa e bentrovati ad un nuovo appuntamento con MTB Gran Fondo. Immagini che vi arrivano da Bibbiena, siamo in Toscana, provincia di Arezzo, per la 27esima edizione della Gran Fondo Casentino Bike. Siamo nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, un luogo di grande fascino nell'appennino tosco-romagnolo. Stiamo vedendo intanto le belle immagini del centro storico di Bibbiena, sede di partenza ed arrivo del Casentino Bike. Il sabato pomeriggio spazio ai mini-biker con la mini Casentino Bike. Le gare dedicate alle categorie esordienti allievi e giovanissimi. Il tracciato molto spettacolare con questo tratto quasi da guadare. Un vero divertimento per i giovani atleti. Qualcuno cade dalla MTB ma niente paura. Si sale subito in sella e si riprende la propria gara. E dopo le fatiche si taglia il traguardo. Si è dato tutto, tanta fatica ma soprattutto anche tanto divertimento. Ed infine una medaglia va a tutti. E presso il centro commerciale Casentino c'è anche il punto iscrizioni. Si ritirano i pacchi gara per la 27esima edizione della Casentino Bike. Domenica 23 giugno tutto è pronto per la partenza. Gli atleti stanno entrando nelle griglie. Splende un bel sole a Bibbiena dopo l'acquazzone di sabato pomeriggio. Pronti anche gli atleti che indossano le maglie di leader del circuito RampiTech di cui la 27esima edizione della Casentino Bike fa parte. Intanto questa è Silvia Scipioni della Ciclita Day. La gara oltre che del RampiTech fa parte anche del circuito regionale Coppa Toscana. Abbiamo visto tanti atleti in gara. Questa è Ilenia Colpo del Team Tech Series. La gara è organizzata dalla SD Casentino Mountain Bike presieduta dall'infaticabile Maurizio Cipriani. Intanto il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli saluta tutti i biker raggiunti da ogni parte d'Italia. Questo è Nicola Corsetti campione italiano categoria Master 2. Pronti ad entrare in griglia anche Francesco Failli, Ciclita Day e Johnny Cattaneo, Villier Forza Squadra Corse. Vanno subito la parola alla griglia di partenza. Siamo qua per fare un po' di ritmo. Di sicuro c'è molta gente forte. I Taddei sono tra i favoriti. Noi proviamo a tenergli testa e proviamo anche un po' a divertirci se è possibile. E niente, è la prima volta per me qua a Bibbiena. Costi molto belli, percorso interessante, molti sentieri. Speriamo che non ci sia troppo fango dopo la pioggia di ieri. Siamo qui a Casentino. Vai, che è un'altra prova di rampitec. Speriamo di fare bene. La condizione è discreta, il tempo è buono. Una gara molto conosciuta, una gara vicino a casa. Il tempo è buono, bella giornata e dai, faremo il massimo. Marco Rebagliatti super concentrato prima della partenza. Maurizio Cipriani dalle ultime indicazioni prima dello start. Con il pettorale numero 12 tutto ok per Marco Zamparella. Tutto è pronto per la partenza della 27esima edizione della Casentino Bike. E alle ore 9.30 in punto scatta lo start. Si parte per un percorso di 53 chilometri e 1600 metri di dislivello. A cui si affianca anche un percorso per così dire corto di circa 38 chilometri. La regia stacca sulle immagini che ci arrivano da Moto 1. I primi chilometri sono a velocità controllata su asfalto. Si attraversa la località Bibbiena Stazione in direzione Corsalone. Tutti migliori nel gruppo di testa. Notiamo la pedalata di Francesco Failli. E questa invece è la telecamera posta su Moto 2 nella pancia del gruppo. Siamo sempre ai primissimi chilometri di gara. Uno sguardo anche alla gara femminile. Sempre a velocità controllata dietro il furgone dell'organizzazione. E si tentano anche i primi allunghi di giornata con questa coppia del team Scott Pasquini-Stella Azzurra. E si svolta a sinistra ora verso la vecchia cava della cementeria Sacci. E si inizia la gara vera e propria. Inizia lo sterrato davanti la coppia Scott Pasquini e dietro a circa 20 metri di distanza tutto il gruppo. Lo vediamo proprio in questo istante. Ma bastano poche centinaia di metri di salita e i due vengono riassorbiti. E spiccano da queste riprese le maglie di leader del circuito Rampi-Tech indossate da Tommaso Vanni, categoria Master 1, e Francesco Casagrande, leader tra gli Open entrambi del team Cicli-Taddei. Una salita senza particolari difficoltà nei primissimi chilometri fino a località Croce-Sarna. Tommaso Vanni davanti a tutti con dietro tra gli altri Francesco Casagrande e Francesco Failli della Cicli-Taddei. Poi i tre atleti Villier-Force, Johnny Cattaneo, Tony Longo e Marco Rebagliati. C'è anche Marco Zamparella. E la regia stacca sulla telecamera su Moto2, che sta viaggiando all'interno del gruppo per seguire l'azione dei tantissimi biker che si stanno dando battaglia lungo il percorso della Casentino Bike. Si saluta la telecamera e si continua, ognuno con il proprio ritmo, la propria gara. La Casentino Bike è anche, oltre a una gara sportiva, anche una grande festa della mountain bike. Intanto siamo ancora sulla testa della corsa. Come dicevo, la Casentino Bike, per moltissimi appassionati di mountain bike, è anche l'occasione per poter pedalare sui sentieri delle foreste casentinesi. Scoprire in sella un territorio unico di grande fascino tra natura e storia. Qui sorgono due importanti santuari, il santuario francescano della Verna e l'eremo di Camaldoli. Intanto in testa si è formato un gruppetto di sette biker, inseguiti da questo terzetto con Luca Accordi, Nicola Corsetti e Francesco Acco del ciclissimo bike team. Il terzetto è inseguito da questo gruppo con Spinetti, Galli e gruppo chiuso da Daniele Rossi della SD B team. Andrea Doria apre questo gruppo di inseguitori. Ora si scende per qualche centinaio di metri per poi risalire. E siamo proprio in salita dove al comando c'è ora Francesco Failli, seguito da Casagrande, poi il duo Villier Rebagliati e Longo e la telecamera segue l'azione di Marco Zamparella seguito da Tommaso Vanni e Gianni Cattaneo in settima posizione. Ottavo posto per Nicola Corsetti, atleta dell'Avis Prato Vecchio, categoria Master 2. Nono posto per Luca Accordi, atleta del team Passion Faintina, seguito al decimo posto, quindi chiude la top ten in questo punto Francesco Acco, ciclissimo bike. Con moto uno inseguiamo la testa della corsa, si sale ancora verso località San Francesco, transita anche Tommaso Vanni, mentre questa è l'azione del campione italiano Marathon categoria Master 2, Nicola Corsetti, Avis Prato Vecchio. Ancora pochi chilometri e saremo a Beccia, località di Chiusi della Verna, da dove inizia la dura ascesa verso il Santuario della Verna, un'ascesa che nelle ultime centinaia di metri è molto dura, su fondo ciotolato, con picchi di pendenza anche del 27%. Poi ci si dirigerà verso il Gran Premio della Montagna e da qui inizia anche la novità del tracciato 2019, la discesa cronometrata di Serigiolo. Un lungo trail nel bosco, ricco di saliscendi, curve contro curve, con radici e tratti con pietre. Con la telecamera su moto uno andiamo a recuperare la testa della corsa, inquadratura intanto per Francesco Acco, ciclissimo bike team, con davanti a sé Marco Zamparella del Team Focus Fanelli e Tommaso Vanni della Ciclita Day. E attenzione, problema meccanico per Francesco Casagrande che procede in questo tratto a piedi, rottura della catena, rottura della catena per Francesco, che deve raggiungere a piedi il punto più vicino di assistenza. Francesco è stato superato da Tommaso Vanni e Marco Zamparelli. Vedremo se riuscirà a riparare la catena della mountain bike. Intanto, attenzione, davanti in fuga solitaria c'è Tony Longo, Villier, Force, squadra corse, seguito dal compagno di squadra Marco Rebagliati. Marco si disseta in questo punto, sono due al comando. Quando ci stiamo avvicinando in località Beccia e poi sarà salita verso La Verna. E questa è l'azione di Francesco Failli, attardato per la rottura di un cerchione. E Tony Longo ha deciso di andarsene, si alza sui pedali l'atleta Trentino. Siamo in località Beccia, ora salita verso il santuario della Verna. Tre atleti Villier nelle prime tre posizioni, Longo, Rebagliati e Johnny Cattaneo. In quarta posizione si è portato Marco Zamparella, seguito a breve distanza da Tommaso Vanni. E sta recuperando posizioni dopo la rottura del cerchione Francesco Failli della Ciclita Day, che ha incontrato poco fa anche il compagno di squadra Francesco Casagrande, che abbiamo visto vittima della rottura della catena. E grande spettacolo oggi in Casentino, con il santuario francescano della Verna dall'alto. Il primo a transitare sotto le sue mura è, attenzione, l'atleta Trentino della Villier Force squadra corse, Tony Longo. Affronta senza nessun problema anche questa rampa, che è la più dura. È inseguito con un ritardo di circa 30 secondi dal compagno di squadra, il Ligure Marco Rebagliati. E al terzo posto un altro atleta Villier Force squadra corse, si tratta del bergamasco Johnny Cattaneo, residente precisamente a Santa Brigida. Al quarto posto c'è l'atleta del Focus Fanelli, Marco Zamparella, seguito, attenzione, da Francesco Failli, che ha superato Tommaso Vanni, rimasto attardato proprio nell'affrontare la salita al Santuario della Verna. Eccolo l'atleta della Ciclita Day, che transita in sesta posizione. Settimo posto per Nicola Corsetti, Avis Prato Vecchio, e in ottava posizione troviamo Luca Accordi, atleta del Team Passion Faentina, categoria Master Elite. Ora per noi un attimo di pausa, la Casentino Bike torna dopo la pubblicità. Avis Prato Vecchio, Avis Prato Vecchio, Italia Olimpia, Italian Style, Sinsa IT Night Free. Vista spettacolare di Bibbiena dal Monte Penna, torniamo al Santuario della Verna a seguire le gesta dei biker. Seguiamo l'azione di Matteo Spinetti, seguito da Giulio Galli, entrambi del Team Ciclita Day. Il Santuario Francescano della Verna sorge sopra la roccia ed è circondato dalla foresta. All'interno della sua massiccia ed articolata architettura, custodisce numerosi tesori di spiritualità, arte e cultura. Nell'estate del 1224, San Francesco si ritirò proprio sul Monte della Verna ed è proprio qui che ricevette da Dio le stimmate, segno della passione del Signore. Ora il Santuario è meta di pellegrini e turisti provenienti da tutto il mondo per visitare questo tesoro della nostra bella Italia. Da qui i biker devono affrontare un veloce zigzag e si sale fino al GPM. Ma recuperiamo subito la testa della corsa dove al terzo posto troviamo Johnny Cattaneo al secondo. Eccolo inquadrato proprio in questo istante Marco Rebagliati, entrambi della Villier Forza Squadra Corse ed avanti a tutti c'è Tony Longo, l'atleta trentino, ha aperto il gas e aumenta il suo vantaggio dagli inseguitori. Ed è vero spettacolo questo passaggio nel bosco, le foreste casentinesi sono veramente affascinanti in questo periodo. Oltre al fresco offrono anche panorami veramente mozzafiato. Bisognerebbe avere il tempo per guardarsi attorno ma non ce l'ha Tony Longo che è velocissimo ad arrivare fino al Gran Premio della Montagna e transita da solo sotto il portale. Da qui inizia la discesa cronometrata, il nuovo tratto di questa edizione della Casentino Bike e devono passare trenta secondi per vedere la seconda posizione occupata dal compagno di squadra Marco Rebagliati. Terzo posto per Johnny Cattaneo mentre in quarta posizione transita Francesco Failli che ha superato Marco Zamparella. Eccolo Marco che transita proprio in questo istante al Gran Premio della Montagna in quinta posizione. Al sesto posto troviamo l'atleta della ciclita dei Tommaso Vanni con la maglia di leader del circuito Rampitec. Passaggio anche per Nicola Corsetti Avis Prato Vecchio campione italiano marathon categoria Master 2 ora in settima posizione e via giù per la discesa cronometrata. Ma portiamoci alla fine della discesa cronometrata e attenzione perché Francesco Casagrande è ritornato in gara ed ora sta guadagnando posizione su posizione. Nella discesa cronometrata il miglior tempo l'ha fatto registrare Johnny Cattaneo con il tempo di 13 minuti e 34 secondi seguito da Francesco Failli e Tony Longo al terzo posto. Tutti staccati di qualche secondo. Con moto 1 andiamo a recuperare la testa della corsa dove in terza posizione troviamo Johnny Cattaneo Villier Force squadra corse che ha davanti a sé il compagno di squadra il Ligure Marco Rebagliati. Eccoli ora transitare praticamente insieme Marco Rebagliati e il bergamasco Johnny Cattaneo ora si scende. E dopo la rottura del cerchione un grande recupero per Francesco Failli all'inseguimento dei tre di testa seguito ancora in quinta posizione da Marco Zamparella e Tommaso Vanni al sesto posto. Seguiamo l'azione anche di Nicola Corsetti Avis Prato Vecchio mentre attenzione grande grande recupero anche per Francesco Casagrande dopo la rottura della catena della sua mountain bike transita anche Gianni Alessio Tutto Bike Kona con la maglia di leader Rampitec per la categoria Master 3 mancano circa 20 chilometri all'arrivo di questa Casentino Bike intercettiamo anche l'azione di Salvatore Santa Croce leader Rampitec per la categoria Master 2 ed è grande grande spettacolo oggi nelle foreste casentinesi con la grande mountain bike della Casentino Bike questo è Thomas Pasqualotto atleta padovano del nostro team MTB Gran Fondo mentre questo è Agostino Os categoria Master 7 attendiamo anche il passaggio della gara femminile intercettiamo l'azione di Massimo Milanetto e davanti a tutte attenzione c'è Silvia Scipioni del team Ciclita Day in seguita a debita a distanza da Monica Petruccioli del GS Poppi e in terza posizione transita non inquadrata Pamela Rinaldi del ciclissimo bike team 48esimo chilometro di gara siamo con le nostre immagini sui due inseguitori di un velocissimo Tony Longo sono Francesco Failli e Marco Rebagliati intanto a Bibbiena tutto è pronto per attendere il vincitore di questa 27esima Casentino bike e attenzione braccia al cielo per Tony Longo Villier Force squadra corse che va a vincere la 27esima Casentino bike con il tempo di 2 ore 29 minuti e 5 secondi ultimi colpi di pedale per Francesco Failli e Marco Rebagliati Rebagliati davanti attenzione Failli problemi ha rotto la catena proprio mentre stava partendo lo sprint e si aggiudica la seconda posizione il ligure Marco Rebagliati della Villier Force squadra corse e sfortunato oggi Francesco Failli ciclita che dopo la rottura del cerchio rompe anche la catena proprio all'arrivo di Bibbiena Failli comunque sale sul terzo gradino del podio ottima prestazione grande recupero per l'atleta toscano e primo piano per Marco Rebagliati che si aggiudica la seconda posizione in ritardo dal compagno di squadra Tony Longo di 3 minuti 21 secondi in quarta posizione taglia il traguardo proprio in questo istante Johnny Cattaneo Villier Force squadra corse arrivo anche per Francesco Casagrande che si aggiudica la quinta posizione seguito al sesto posto da Tommaso Vanni sempre della ciclita dei i due biker mantengono così anche la maglia di leader Rampitec settima posizione per Nicola Corsetti Avis Prato Vecchio cerimonia dei fiori ma do subito la parola agli atleti sono riuscito a agganciare i due Willier Cattaneo e Rebagliati e nel finale ho provato un po' a forzare Cattaneo si è staccato siamo arrivati io e Rebagliati fare la volata per il secondo posto niente in volata mi si è strappato la catena il secondo posto che conferma l'ottimo risultato che ho fatto domenica sabato scorso alla Iero sul percorso corto e per come si era messa per la squadra poteva essere una domenica super perché a un certo punto eravamo primo, secondo e terzo e poi proprio nel finale c'è rientrato Faiili sugli ultimi strappi e poi ho tenuto un po' dura e ho cercato di farla differenza proprio sugli ultimi strappi ma non ce l'ho fatta ce l'hanno giocata in volata con Faiili sono riuscito a spuntare questo secondo posto e sono veramente contento per questo sì sono contento della prestazione una buona vittoria un periodo che sto bene già da un mese che pedalo che pedalo bene era la prima volta per me qua a Bibiene una bella gara bel percorso molto bella anche paciagisticamente e niente guardiamo avanti adesso abbiamo gare particolarmente importanti le prossime settimane speriamo di mantenere questa condizione torniamo subito sul percorso di gara attendiamo la gara femminile ed è Silvia Scipioni atleta della ciclita dei davanti a tutte Silvia dopo essere stata raggiunta da Monica Petruccioli nella seconda parte di gara è riuscita a riconquistare la prima posizione ed ora si avvia in solitaria verso l'arrivo di Bibiene ultime pedalate per Silvia Scipioni svolta a sinistra rettilineo d'arrivo per Silvia saluta il suo pubblico braccia al cielo Silvia Scipioni è la regina della 27esima edizione della Casentino Bike con il tempo di 3 ore 12 minuti e 10 secondi e arrivo anche per Monica Petruccioli seconda posizione per l'atleta del GS Poppi BP Motion che sale sul secondo gradino del podio Pamela Rinaldi del ciclissimo bike si aggiudica la terza posizione in quarta posizione chiude Alice Lunardini e quinto posto per l'atleta estense Ilenia Colpo arrivo anche per Cristiana Lippi che chiude la sua Casentino Bike in sesta posizione pasta party con le immancabili bruschette toscane ma do subito la parola alle protagoniste di giornata sono veramente contenta di questo podio con queste ragazzacce che mi fanno penare però bene dai anch'io non ho ritmo gara quindi la partenza per me la soffro un po' quindi mi ci vuole un'oretta poi dopo la discesa io invece mi sono divertita è piaciuta e quindi niente poi all'arrivo tutto a posto insomma sono contenta è stata una bella gara ho partito un pochino da metà gara in poi ero un po' stanca però ho mantenuto la posizione quindi va bene la gara di casa come tutti gli anni ci tenevo a far bene è stata un po' dura all'inizio oggi le gambe non giravano un gran che probabilmente ancora si fa sentire la hero però in discesa poi lasciamo stare la discesa per me è stata un trauma infatti mi ha ripreso anche Monica l'ho fatta veramente male sono sincera e dopo però vabbè ho cercato di aumentare in salita di recuperare dopo poi ho iniziato a stare un po' meglio per cui ho cercato di dare il massimo fino all'arrivo e è andata bene ti ringrazio a Menti in primis vanno ai miei collaboratori che io sì è vero sono il presidente ma senza di loro non si potrebbe fare niente poi a tutte le persone che ci stanno vicino a Certo Commerciale qui che ci dà la possibilità di avere tutto questo spazio agli enti a tutti quelli che insomma ci danno una mano vogliamo dare già l'appuntamento per il prossimo anno sì il prossimo anno probabilmente ci saranno ulteriori novità perché chiaramente il lavoro va avanti non possiamo stare fermi il sistema vedo che sta un pochino cambiando per cui anche noi dovremmo diciamo cambiare per seguire un pochino la tendenza dei ciclisti e con la vestizione delle maglie di leader del circuito Rampi Tech si chiude anche la 27esima edizione della Casentino Bike un saluto da Carlo Rosa MTB Gran Fondo torna la prossima settimana Rampi Tech MTB Gran Fondo in collaborazione con Tech Series non fermarti mai la prossima lastly la prossima non fermarti la prossima